A mattino 6, il nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa. Venerdì 30 agosto, l'attenzione è ancora tutta puntata sulla formazione del Governo nazionale, ma andiamo subito a scoprire cosa è successo in Abruzzo e nel mondo dalle prime pagine dei principali quotidiani. A partire proprio dall'Abruzzo, dalla prima pagina del centro, vediamo l'attenzione sul Governo nazionale, Conte e Governo di novità, partono le consultazioni per la composizione dell'esecutivo, pressing dei 5 stelle per i vice, il PD ne vuole uno solo per sé, Salvini scende in piazza il 19 ottobre, Berlusconi invece si smarca. A proposito della politica nazionale ci sono anche le reazioni da parte dei politici abruzzesi, Lenini è ottimista e Bellachioma invece è furioso. A Pescara, piano sicurezza, i vigili urbani in servizio anche di notte, mentre a Montesilvano, per quanto riguarda il Jova Beach Party, via gli ombrelloni, palco pronto in 6 giorni. Ma anche la cronaca, bambino muore in piscina, Silvi Marina, tragedia in albergo, il piccolo aveva 5 anni e è aperta un'inchiesta. Proseguiamo con la prima pagina del centro, dedicata a Chieti, Lanciano e Vasto. Vediamo a Chieti, frana la collina, la zona a rischio si allarga, via allo studio. Per quanto riguarda Vasto, nuova TAC ancora ferma, i lavori sono bloccati e a Lanciano gli antichi mestieri rivivono alle torri. Invece nella prima pagina, dedicata alla provincia di Teramo, pensionato Teramano muore a Sciacca per una lite e Giulianova getta la spugna dopo il furto. Basta, chiudo la gioielleria. Mentre proseguiamo con la prima pagina del centro, l'Aquila, Avezzano, Sulmona. Perdonanza, mannoia chiude la festa, il mio cuore per l'Aquila. Ad Avezzano, padre violento, il figlio lo manda in carcere. E a Scanno, orsa in casa, all'ora di cena, una famiglia nel panico. Per quanto riguarda invece la prima pagina del messaggero, dedicata all'Abruzzo, anche qui in apertura alla cronaca, bimbo annega nella piscina a Silvi Tommaso Galizzi, di cinque anni faceva il bagno insieme ad altri piccoli ospiti dell'hotel, finito sott'acqua davanti a numerosi adulti, subito soccorso dal bagnino, ma purtroppo nulla da fare. Il caso, bandiere stracciate, disonore sui palazzi a Pescara e anche Papa Francesco, ipotesi visita a casa di Marsilio, che dovrebbe recarsi, il Papa forse a tocco da Casauria. Ma anche dramma in Sicilia, muore durante il litigio per il cane, la vittima è il teramano Calogero Sansone, aggredito davanti al bar da un minorenne. Ma vediamo la fotonotizia, dedicata alle celebrazioni della perdonanza celestiniana, c'è il bilancio del direttore Leonardo Di Amicis, alberghi pieni grazie alla perdonanza, un evento che attira ancora tanti turisti. La città, la prima pagina del quotidiano di Teramo, bimbo annega nella piscina dell'hotel, Silvi piccolo turista a Bergamasco di cinque anni, si è sentito male mentre giocava con gli amici. La fotonotizia, anche qui, è dedicata a questa tragedia. Nonostante i soccorsi tempestivi non c'è stato modo di rianimarlo, ma c'è spazio anche per il Papa. Marsilio Papa Francesco torna in Abruzzo dopo tre anni, come abbiamo detto, a tocco da Casauria. Ma a Teramo anche il Sisma, il sindacato, ce li ha tra 22 aspiranti tecnici per quel che riguarda la ricostruzione proceduta finora a rilento. Ma andiamo a vedere le pagine dei quotidiani nazionali e scopriamo cosa è successo in Italia e nel mondo. dal Corriere della Sera, Conte, un incarico con spine. Sarà un governo di novità, trattative difficili con 5 Stelle e PD. Salvini annuncia noi in piazza. Il progetto del Premier è disintossicare l'Italia, ha annunciato durante il discorso. Ecco come può durare la dichiarazione di Zingaretti. Proseguiamo con questa fotonotizia dedicata a Brad Pitt, l'attore alla mostra di Venezia, parla della sua vita e del nuovo film. Brad Pitt, io miracolato ho vinto alla lotteria, si è raccontato il celebre attore americano. Andiamo sulla Repubblica, Conte, 5 giorni all'alba, il Premier incaricato, un esecutivo nel segno della novità, Zingaretti, si presenta come super partes, ma è del 5 Stelle. Timori del Quirinale per il programma, intesa lontana sui punti chiave, tranne Liva, Salvini, protesta in piazza a Roma, i renziani si tengono le mani libere, pronti a stare fuori dal governo. La fotonotizia è dedicata a questo piccolo migrante, nave dei bambini, tutto come prima, se questo è ancora un taxi del mare. Il racconto della nave di migranti che è sbarcata ieri, che era carica anche di bambini. Il messaggero, Conte, parte tra le crepe 5 Stelle. Il Premier incaricato da Mattarella non sarà un governo contro, ma di novità. Mercoledì, ministri, i tempi lunghi allarmano il PD. Di Maio Averti ascolterò il voto. Sul Russo cala lo spread bene i BTP. Mentre Renzi si è espresso anche sulla formazione del nuovo governo, di cui non farà parte, la durata del nuovo esecutivo sarà legata alla qualità della squadra, che sarà definita nei prossimi giorni. Scuola, ecco il piano, classi con 22 alunni e premi ai professori. Nel progetto Rosso-Giallo il rilancio dell'istruzione, nuove regole sui dottorati contro la fuga all'estero. Le spine della trattativa, la vera grana restano i vice, farò del colle sui posti chiave. Il programma al rallentatore dall'immigrazione alle tasse. Infatti PD e 5 Stelle sono sempre stati in disaccordo su punti chiave come TAV, ILVA e TAP. Vedremo cosa combineranno. Il mattino di Napoli, Conte ci prova, 5 Stelle nel caos. Mattarella incarica il Premier, non sarà un governo contro. Tempi lunghi per i ministri, Di Maio insiste sul doppio vice, avvisa l'ultima parola. Rousseau, lo spread è ai minimi. Salvini va in piazza, no di Berlusconi. Forza Italia invece incontra il prof. La fotonotizia è dedicata allo sport. Juve-Napoli-Orsato, l'arbitro che salvò Pjanic con l'Inter e penalizzò gli azzurri. Lo schiaffo, titola, ma anche fototti in chat della compagna, scatta l'indagia. Navillino nel mirino tre minorenni, le amiche ascoltate in questura per il reato ipotizzato di revenge porn. Il fatto quotidiano, vediamo qui però questi no, nel totoministri nessun inquisito, ma motivi di opportunità. Sconsigliano Marconi, Franceschini, Toninelli, Del Rio, Nannicini e Franco, che vediamo qui ritratti nella fotografia. Conte preferirebbe due vice e prova a convincere Zingaretti. Fatto è qui la festa, oggi politica, cucchi, fisco, tav e arbore. E per quanto riguarda invece i migranti, ONG si indaga su Salvini, stavolta non c'è paracadute. Open Arms chiama la piazza, Meloni lo gela, c'è già la mia. Andiamo avanti, il tempo, contro ordine compagni, entrano nel governo anche quelli della sinistra radicale di Liberi Uguali, sparanzosi in una poltrona col piattino da conte, tutti quelli che solo un anno fa tonavano contro ogni trasformismo. Infatti la fotonotizia è dedicata al leader di Liberi Uguali, Pietro Grasso, ed ecco quello che tutti aspettavamo, la vignetta in Romanaccio di Oscio, in cui mi addentrerò anche stavolta, si avanza una poltroncina, io me la pio volentieri, l'ironia del tempo. Morto Silvestrini, il diplomatico dei nostri papi, la cronaca, ma anche boom distanziatore negli hotel stellati di Roma, affittate durante il giorno anche da alberghi di lusso in centro, gli usano coppie clandestine o manager. La stampa a Conte promette novità, ma tra PD e 5 Stelle è scontro su Europa e tesoro, economia, ipotesi scannapieco, Mattarella chiede garanzie su 4 di Casteri, sondaggio, la maggioranza è contro il nuovo governo, scende Salvini. E ora i grillini sono un bivio d'identità, per far crescere il PIL bisogna sfidare il tabù dei conti pubblici. Ma vediamo anche l'intervista a Casiraghi, Greta protagonista anche in mezzo all'oceano, il riferimento ovviamente a Greta Thunberg, la paladina svedese dei diritti ambientali. Il manifesto, Conte corrente il gioco di parole, Conte riceve l'incarico da Mattarella, sarà un governo di novità, subito al lavoro per la manovra e avvia le consultazioni per i ministeri. Ma i 5 Stelle insi sono l'ultima parola a Russo, Salvini chiama la destra in piazza, manifesteremo il 19 di ottobre. Lo sbargo di notte nel mare in Burrasca, dalla nave Marionio scendono solo bambini, donne e malati. Ma anche qualche notizia dagli esteri, Brexit è corsa contro il tempo per evitare il no deal. In Colombia i dissidenti FARC riprendono le armi. Venezia, vediamo anche no a Bumbac, se la coppia scoppia. Ma a proposito di migranti, leggiamo anche perché può essere tortura e trascorso un anno dal controverso caso Diciotti, per il quale il ministro dell'Interno è stato accusato di sequestro di persona verso migranti, trattenuti per quasi 10 giorni a bordo di una nave militare, il punto del manifesto. La verità di Maurizio Belpietro, faccia da conte, con sprezzo del ridicolo e della coerenza, il premio riuscente accetta l'incarico di formare un nuovo governo con una maggioranza diversa, dopo aver giurato che non l'avrebbe mai fatto. Ho avuto più di un dubbio, ma l'ho superato, perché sono bravo secondo la verità. E la stampa, prima che lo dileggiava, ora lo copre di lodi. La Chiesa acconsente, la Cirinna scopre i piani, adozioni gay e droga libera. Però in Senato i giallorossi ballano sui numeri, titolando addirittura Viet Cong grillini. Sovranità limitata, l'impronta dell'Unione Europea sul ribaltone, vi ricompenseremo, avrebbero detto riferiti al governo italiano, e Salvini in piazza contro il furto di democrazia. Ma ancora a Bibiano sulla verità, l'ombra di Bibiano si allunga anche sul Verona, la Procura apre un'inchiesta sull'affido dei minori. E Macron si prende come consulente la Femen, che profanò Notre Dame. Il secolo di Francesco Storacer, Sor Marchese del Grillo, la citazione Lameloni convoca la piazza, Salvini e Berlusconi si ingelosiscono. E Bignami, addio Forza Italia, sceglie Fratelli d'Italia, sono tornato a casa, mentre Barillari, De Cinque Stelle contro il PD, più pericoloso della Lega, e anche Ricchetti dice no, il livello è molto basso, ha detto il componente del PD, della corrente di Martina. Sole 24 ore, il principale quotidiano economico finanziario, concessioni intesa a PD 5 Stelle sulla riforma, slittano le revoche, il programma di governo, una revisione generale, porterà una tariffa che premi chi investe, l'accordo prevede sostegno per delibere dell'autorità sull'adozione di Price Cap, sulla revoca ad Aspi deciderà Conte sulla base del parere che evidenziava forti rischi. Autostrade, perché serve tutela, leggiamo il tema degli interventi in materia di concessioni autostradali, è entrato nella discussione, volta a definire gli obiettivi del nuovo governo, una questione che riguarda da vicino anche l'Abruzzo, ma vediamo anche la questione ambientale, incendi maggiori che in Amazzonia, in Africa più roghi, ma meno danni, perché molti incendi, come ci mostra la cartina, sono anche in Africa. Ma leggiamo anche, sempre torniamo sulla politica, Conte, governo aperto all'Europa, la Gard, nuove regole sui conti dell'Unione Europea, la manovra servono ancora 15 miliardi, mentre l'Argentina dichiara il default e ristruttura 110 miliardi in debito, mentre Eni in Messico apre alle energie verdi e si allarga quindi la sua influenza intorno al globo. L'avvenire è il quotidiano di ispirazione cattolica, un governo per Conte accetta con riserva, annuncia novità, valori e primato della persona, la squadra sarà composta mercoledì, Di Maio insiste per fare il vice premier, spread ai minimi, la crisi è verso la soluzione, Salvini non va alle consultazioni con il premier, in piazza il 19 ottobre, la fotonotizia è dedicata all'uomo del clero scomparso, addio a Silvestrini, una vita spesa per il dialogo, chiesa a mondo, si è spento a 95 anni, il cardinale protagonista della diplomazia vaticana, uno degli artefici della Ospolik, ma anche il caso, bambini trasbordati col mare in tempesta, impedito l'approdo alla Mare Ionio, minori e madri condotti a terra. Andiamo a vedere rapidamente le prime pagine anche dei nostri quotidiani sportivi, vediamo a partire dal Corriere dello Sport, Ninja a nudo, Nainggolan tra Inter e Derby a Roma, mai così tanto ragia, le scelte, le colpe, le ferite, le sue verità di Damarotta e Cardi, da Giuliani a Instagram, da Spalletti alla battaglia della moglie, ma anche Roma e Smaling, in prestito dallo United, e il nuovo difensore di Fonseca, Cagliari, Simeone e Olsen, Defrella, Sassuolo, Laxatel, Toro in questi ultimi colpi di calcio mercato, e dei Cardi, possibile rinnovo, e poi via in prestito. Ma anche Luisa Enrique, che tragedia, muore la figlia di nove anni per un tumore alle ossa, il tragico lutto che ha colpito Luisa Enrique, mi ha anche la rifinitura, ieri ha guidato l'allenamento del Bologna, in panchina con la Spall, continua la lotta dell'allenatore del Bologna contro la malattia, video Hawaii, imbarazzo Aia, gli arbitri di Serie D ballano e cantano in gonnella, e i vertici non si divertono. Andiamo avanti con la Gazzetta dello Sport, Neymar di Bala Icardi, si muovono le stelle, Oney verso il Barcellona, il PSG sulla Joia, si chiede la Gazzetta dello Sport, Marotta offre il rinnovo, Mauro apre all'addio, un bel toro non basta, fuori Cairo, peccato l'andata. L'Europa League, il Wolverhampton vince 2-1, oggi Lazio e Roma nell'urna. Ma anche per i sorteggi di Champions, Juve, Napoli e Atalanta, messe bene, Ronaldo trova l'erede Joao Felix dell'Atletico, Leverkusen e Locomotive, Ancellotti con il Liverpool campione, Massalisburgo e Genk sono alla porta, Gasp, Pesca City e Dinamo, Zagabria si giocherà gli ottavi, con lo Shakhtar. Inter, Barca e Dortmund invece sono immessi male, girone di ferro per Conte, c'è ancora il fuoriclassi argentino e anche il Borussia, un rivale pericolosissimo, prima gara contro lo Slavia Praga a San Siro, il tecnico va all'attacco, un gruppo stimolante, eppure per le avversarie. Mentre dal Brescia al mercato è già rischia tutto per il Mira, domani debutto a San Siro e quattro giorni per un colpo. c'è Mialovic nel suo stadio, Bologna a Spal, Notte dei Desideri, oggi l'anticipo di Serie A, il dramma di Luisa Enrique, morta a nove anni, la figlia Xana lasciò la Spagna. Per lei. Tutto sport, bravo Toro, adesso devi riprovarci, non basta il gol di Belotti, Granata, no, a Wolverhampton, escono dall'Europa, ma a testa alta, ora i rinforzi giusti per un grande campionato, il primo è l'Axaltre, che arriva oggi. Vamos Juve, sorteggio Champions, riecco l'Atletico Madrid, Ronaldo dai tifosi spagnoli, stavolta mi aspetto un comportamento corretto, tanto rispetto e zero insulti, girone abbordabile per l'Atalanta che partiva in quarta fascia, Napoli l'unico vero pericolo e Liverpool più complicato, il cammino dei nerazzurri, Van Dijk, calciatore dell'anno, Nesved, il premio lo meritava Cristiano. Ronaldo, ma vediamo anche Brividi Inter, Forza Dea, Juve, Atletico Madrid, Bever, Leverkusen, Locomotive, Mosca, i gironi della Champions, Liverpool, Napoli, Salzburgo, Celle, il gironè, quello F, Barcellona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Praga, il girone C, Manchester City, Shakhtar, Donetsk, Dinamo Zagabria e Atalanta. Vediamo anche Sarri, i doveri e le due sfide, gli euro rivali di Conte, Neymar, sì, ritorno al barca, accordo con il PSG, e grande sinistra, stasera a Bologna, Mialovic in panchina, contro la Spal, e adesso per questa prima parte della nostra segna stampa è tutto e vi lascio alle previsioni meteo e subito dopo il break pubblicitario torneremo sempre qui a sfogliare pagina per pagina i quotidiani locali per approfondire la cronaca abruzzese. A tra poco. Rieccoci a mattino 6 venerdì 30 agosto, andiamo a sfogliare i nostri quotidiani locali pagina per pagina e anche qui dal centro l'apertura e sulla politica nazionale. Vediamo le reazioni dei politici abruzzesi, Lenini ottimista, Bella Chioma furioso, Vacca sottosegretario uscente e Salvini avrebbe mandato l'Italia nel caos, ma per l'azzurro pagano sarà un mix letale. E vediamo a proposito di Lenini, l'ex vice del Consiglio Superiore della Magistratura, ringrazia Zingaretti, fa gli auguri al Premier riconfermato, delogia il Presidente Mattarella, mentre il leader abruzzese della Lega, Bella Chioma, sono contro di noi per le poltrone, perché hanno paura di essere asfaltati, mentre la Pezzopane, Salvini è la vittima di un autocomplotto ed Alessandro invoca un patto in regione. PD 5 Stelle, infatti il PD alleanza anche nelle regioni, presto il rinnovo di 9 consigli, ma i 5 Stelle per ora prevalgono i no all'alleanza anche locale. Mentre la Borsa scommette su Conte, come abbiamo visto, lo spread è ai minimi. Andiamo avanti, in Abruzzo le imprese crescono sui mercati esteri, Polonia, Ungheria, Russia, Brasile, le opportunità più interessanti, oltre a partner tradizionali come Germania e Stati Uniti. Il polo dell'export di cassa depositi, vediamo qui, ma anche il piano d'orta, la bonifica è lontana, fumata grigia della conferenza dei servizi, il Ministero pensa a un nuovo decreto. Vediamo il lavoro per 66 giovani volontari, in busta paga 433 euro al mese, il vando uscirà a settembre, quest'anno le candidature vanno presentate in modalità online, ecco l'elenco delle 26 prologo ammesse al progetto, con accanto il numero di ragazzi richiesti. Reddito occupabile, un beneficiario su tre. Lunedì al via le convocazioni dei centri per l'impiego, ogni navigator si interesserà di 264 persone. Andiamo il colosso dimenticato blitz della finanza, la corte dei conti in via le fiamme gialle, nel parco scientifico tecnologico di Chieti, uno spreco da 20 miliardi di vecchie lire, mentre ci si chiede anche che fine ha fatto la filovia di Pescara dopo i lavori già iniziati anni fa sulla strada parco. Caccia a Pepe contro imprudente dopo lo stop del Tarra al calendario, l'ex assessore PD accusa il suo successore. Marsilio, pronti ad accogliere il Papa, il Santo Padre sarà in Abruzzo per inaugurare il Santuario della Vergine del Silenzio e nel convento di Tocco da Casauri, è l'evento a Castel di Sangro, stasera l'Abruzzo preme i suoi nove ambasciatori. Andiamo avanti sulle pagine dedicate a Pescara, la questione sicurezza in apertura, vigili in servizio anche di notte per sorvegliare tutta la città. La Polizia Municipale si rafforza, da domenica ci saranno 30 agenti in più, ma solo per quattro mesi il comandante Magitti presenta un piano per sperimentare i turni di 24 ore nei fine settimana. L'area di risulta, pronti gli uffici, mentre d'inizio vediamo l'assessore di Pescara, i posti a disposizione dei dormitori sono insufficienti per quanto riguarda la questione senza tetto, mentre si continuano a sgomberare gli alloggi di fortuna. Anche lo sport in lutto per Marco abbiamo perso un campione, la Federazione Italiana Bushu Kung Fu e il maestro di arti marziali Taresco ricordano il 32enne morto in Grecia, la tragedia in vacanza ricordiamo. Ma andiamo avanti, voltiamo pagina, i genitori dei bambini intossicati, questo è lo scandalo Mense, secondo il centro, la Cirfood paghi tutti i danni, il pool di avvocati che assiste 70 famiglie replica l'azienda, siamo pronti a costituirci parte civile se il risarcimento non sarà adeguato. Gli alunni sono stati costretti a controlli medici per tre mesi, ma a pochi giorni dall'inizio delle date della scuola, vediamo qui le date degli istituti che riguardano l'Abruzzo. Niente panino a scuola, è polemica ai consiglieri di Fratelli d'Italia e 5 Stelle, i bambini devono mangiare insieme, dopo il no dell'assessore allo sport di Pescara Santilli. Bombardamenti a Pescara, il comune esclude lampi, manifestazioni separate, per ricordare gli avvenimenti del 31 agosto del 1943, il PD brutto segnale, mentre il sindaco Masci, la celebrazione non ha colore politico. Ricordiamo quello del 31 agosto 1943, fu il primo di una serie di bombardamenti a opera delle forze alleate che devastarono Pescara, causarono migliaia di morti, per non parlare degli sfollati. Oltre alla polemica, perché il comune dalle celebrazioni avrebbe escluso lampi, nonché i ragazzi del conservatorio di Pescara, infatti suoneranno quelli del conservatorio di Teramo, ma andiamo a scoprire il programma delle celebrazioni istituzionali nell'intervista di Paolo Renzetti. Pescara ricorda i tragici bombardamenti del 1943, il 31 agosto, Presidente, ci sarà questa cerimonia, ci saranno degli eventi, perché è giusto non dimenticare? Assolutamente, infatti il titolo di questa celebrazione, che ricorda il 76esimo anniversario dei bombardamenti del 31 agosto 1943, è proprio improntato all'esigenza di non dimenticare. Dobbiamo conservare la memoria di quello che è accaduto, purtroppo anche delle nostre tragedie. L'estate del 43 rappresentò sicuramente una delle più grandi tragedie della città di Pescara, con migliaia di morti. Noi sabato 31 agosto ricorderemo con due momenti quelle tragiche ore. Attorno a mezzogiorno, quindi vicino all'orario in cui avvenne il vero e proprio bombardamento del 31 agosto, Radio Mare, che è il soggetto che comunica ufficialmente lungo la spiaggia, con un messaggio inviterà tutti i cittadini a un minuto di raccoglimento. La sera alle 19, qui davanti a Palazzo di Città, ci sarà la cerimonia vera e propria con la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti e poi un ricordo da parte dello storico Marco Patricelli e un concerto, il ricordo dei caduti, delle migliaia di caduti. Il numero preciso non fu mai individuato perché furono tumulati in fosse comuni e anche dopo la guerra, quando furono rimosse le macerie, furono trovati ulteriori cadaveri. Quindi comunque parliamo di migliaia di vittime di Pescara. Insomma, una grande tragedia della nostra città che dobbiamo ricordare perché non ce ne siano più di tragedie così. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Auto con targhe estere scattano i sequestri per i mezzi fuori legge, aumentano i controlli della finanza, bloccati 9 veicoli. La mancata immatricolazione comporta una maxi multa, ma anche al porto turistico, fermenti d'Abruzzo e di scena la birra con 12 produttori. A Montesilvano ovviamente l'attenzione è ancora tutta sul Jova Beach Party. Jova via agli ombrelloni, oggi si monta il palco chiuso a parte della rivera, in arrivo i camion con le attrezzature. Vediamo qui nelle fotografie i ragazzi degli stabilimenti impegnati a smontare i lettini e gli ombrelloni che svolgono, ricordiamo, uno dei lavori più faticosi dell'estate. E anche vediamo qui ancora le foto, ma l'assessore costi ridotti quasi a zero per il comune, sempre per quanto riguarda il Jova Beach Party, che comunque sarà anche finanziato da soldi pubblici. Lega contro il sindaco sull'aspoltore servizi, 30 lavoratori a rischio, pari se pace, il ministero ha rilevato un quadro catastrofico, ma Dilorito invita alla prudenza e spegne l'allarme sociale a spoltore. E sempre a spoltore, 5 giorni di feste per la Madonna del Popolo. Fibra ottica entro il 2020, coperta tutta Francavilla. Ieri l'incontro tra il sindaco e Open Fiber, società che realizzerà il progetto investimento da 5 milioni di euro. La rete raggiungerà anche le periferie. Per quanto riguarda i cantieri in città, lavori sulla frana a 7,20. A Francavilla il Consiglio Comunale discute della sosta per disabili, la mozione di seduta nella seduta di oggi, di Renzo. Francavilla aiuti anche chi ha un handicap temporaneo. Mentre, ricordiamo, tra poco si tornerà sui banchi di scuola, lavori nella scuola media o che ha il progetto a San Giovanni Tetino. L'intervento sull'edificio di Largo Uetiwa sarà concluso l'anno prossimo. Allarme cinghiali in Val Pescara. Ha chiesto l'intervento del prefetto, il sindaco di Letto Manopello. Rischi per le persone e danni alle colture. Bisogna agire subito. Gli animali hanno causato molti incendi lungo le strade provinciali. Proposta una caccia selettiva. Agevolazioni, invece, sugli autobus per gli studenti pendolari. La proposta di Di Marco alla Regione. Mentre sempre, per quanto riguarda la scuola, si è acceso anche un dibattito con rifondazione. Stasera a Manopello. Basilic event domani a Penne. La quarta edizione. Musica e balli alla memoria dei due ragazzi morti a Vasto nel 2016. Vediamo Chieti. Frana la collina. Si allarga la zona a rischio dopo lo sgombero di un palazzo. e le crepe su altri sei edifici. Il Comune avvia un'indagine. Criticità su intero versante. Entro ottobre al via l'appalto per l'area del Tiate Center. L'altra emergenza. Mentre vediamo Manager dell'Energia. Altro rinvio. Dopo due bandi annullati. Servono ulteriori tre mesi per affidare l'incarico. Ecco la città dei mercati ai tempi del Mastro Giurato. A Lanciano antichi mestieri usanze del Medioevo. In scena alle torri montanare. Alchimisti, liutai, falegnami, tessitori e scultori. Mostrano le arti del passato. All'ospedale di Vasto o Torino pochi medici dopo la morte di Buzzelli. Ma anche a Ortona un disastro ambientale. Fogne e mare scattano le prime denunce. La Capitaneria di Porto scopre i responsabili dello sversamento al peticcio. La consigliera Iubatti pronta a presentare un esposto. Troppi ritardi in Comune. Mentre vediamo l'ennesimo avvelenamento del nostro mare. A Teramo muore in piscina a cinque anni. A Silvi inutili soccorsi per salvare il piccolo di Bergamo. E' probabile una congestione. Mentre è morto anche in mare a Roseto. Indagato il bagnino. La procura ha disposto l'autopsia sul turista di 78 anni. Il decesso è avvenuto davanti a moglie e figlia. Violenta lite per un cane. Anziano muore in un bar. Litigio fatale. Asciacca, ex impiegato in pensione dell'Asli Teramo. Che è involto in una rissa con un ragazzo. Forse per un malore si è accasciato a terra. Inutili soccorsi indaga la procura. Silvi, sversamenti nei canali. Il Comune dipendono dall'ACA. Il sindaco convoca l'azienda acquedottistica per esaminare la situazione. e programmare interventi. Intanto sono state affidate ulteriori analisi a una ditta privata. Che lavorerà con l'ufficio manutentivo. Mentre ad Atri ha sta pubblica per la vendita di un'area in via dell'industria. Commissariato, che è il progetto ad Atri. Quasi 4 milioni per l'edificio. Che ospiterà anche il centro emergenze. Ma a proposito di ambiente. Appineto, l'ex mattatoio, circondato da rifiuti e fango. L'Aquila porta santa chiusa. Si guarda al futuro. Il Cardinale Petrocchi. L'Aquila deve diffondere in tutto il mondo il messaggio universale di Papa. Celestino V. Ricordiamo il 275esimo anniversario della perdonanza celestiniana. Orsa all'ora di cena. Panico in famiglia. A Scanno. La proprietaria era in giardino. Ci ha terrorizzati. A Pettorano, altro plantigrado. Bussa a casa di un consigliere. Almeno nella nostra regione, sopravvive un po' di natura. Sparsi sui cartelli. Ci sono sospettati. A Pettorano gli investigatori accelerano dopo l'atto intimidatorio nella riserva. Padre violento. Il figlio lo fa arrestare. Ad Avezzano, il 51enne immobilizzato dal giovane, aveva cercato di aggredire la madre dopo una lite. Ma prima di vedere lo sport, andiamo avanti sulle pagine abruzzesi del messaggero. Il ritorno in classe, studenti in calo e pochi bidelli scatta l'emergenza. Sono ben 1780 gli iscritti in meno. Critica la situazione del personale. Senza una trentina di nuove unità è a rischio l'apertura di molti istituti. Mentre mancano pochi giorni all'apertura delle scuole. Un paio di settimane. D'Alfonso può diventare sottosegretario per Vacca, un ruolo ancora da inventare. Luciano D'Alfonso che potrebbe continuare il suo avanzamento di carriera dopo essere stato sindaco di Pescara, governatore abruzzese ed ora senatore. A Pescara niente liti, Maggitti tratta l'uscita. Il comandante della Polizia Municipale ieri in comune per discutere di incarichi, l'ipotesi della protezione civile. Arrivano i trenta rinforzi stagionali. Resteranno in servizio fino al 31 ottobre. Chiesta l'istituzione dei turni di notte. La città e le regole. Movida e residenti e ferricorti, come sempre, e Cremonese, apre un confronto. La politica si divide sulle bombe del 43, 20 separati, come abbiamo già visto, a proposito delle celebrazioni, dei bombardamenti su Pescara, ad opera delle forze alleate. Ciao Iron Man, il dolore degli amici per Marco Sablone. Si attende l'autopsia sul 32enne di Città Sant'Angelo morto in Grecia. Sui social tanti messaggi di cordoglio. Residenti in Italia circolano con targa estera. La finanza sequestra nove veicoli. L'alberghiero a casa per Natale. Fervono i lavori di manutenzione sugli istituti superiori. Sopraluogo di zaffiri e sospiri al cantiere del De Cecco. Soluzione rapida in metallica grazie ai fondi della Regione, ha detto il Presidente della provincia, l'elenco degli interventi. No al pasto da casa, noi a Mensa, in piazza, per contestare la decisione. Ogni anno è polemica sui pranzi a scuola. Comardi, il Jova Beach Party per noi è a costo zero. Si difende il Comune di Montesilvano. E l'enaia di Sclocco si appella ai sindacati per accelerare le riaperture. Tricolori e bandiere dell'Unione Europea come stracci. Uno schiaffo allo Stato che ci lascia poco perplessi. L'Aquila, parcheggio in via 20 Settembre. Il Comune avvia la procedura. La struttura al posto dell'ex-Inps. Ora si studia l'acquisto del sedime. L'assessore Fabrizi faremo una permuta con i nostri alloggi. Da lì vi mette alle violenze di guerra. Verso un weekend ricco di iniziative. Segniamo anche gli eventi. All'Aquila, città piena con la perdonanza all'evento dedicato a Celestino. Il direttore di Amicis non più centro terremotato. Ormai siamo diventati nuovo crocevia della cultura. Ho fatto un giro nelle attività commerciali, negli hotel. C'è stato almeno un aumento del 20% di presenze che speriamo proseguirà anche al termine della perdonanza. In tutto 100.000 spettatori. Biondi, siamo un esempio. Caos scuole, lavori infiniti e ritardi. I bambini dell'asilo nido di Isola Felice, neanche a settembre, potranno rientrare nella sede di Via Abbadia. Promesse disattese alle capograssi, cantieri in corso per l'adeguamento sismico, studenti delle medie e due sezioni, della materna al Sant'Antonio. La cronaca picchia la moglie che vuole separarsi. Interviene il figlio per proteggerla. Un ennesimo caso di violenza familiare. Ma ancora questa notizia. Orso bussa a casa del consigliere Pantè a Pettorano sul Gizio. A Chieti, di primio, verso Fratelli d'Italia. A evento in piazza con la Meloni. Era prevedibile l'adesione al partito sovranista dopo l'addio a Forza Italia, dopo la rottura traumatica con Forza Italia, sindaco a un passo dalla nuova collocazione. Decisivi rapporti con Marsilio e Sigismondi. Oggi era tessa a convegno sugli enti locali. Ma vediamo anche la solidarietà della maiella Sporting. I disabili scalano ora le montagne. Eventi scalini arrivano a più fondi. Molte mai notificate. La Masala a giudizio. La Corte dei Conti ha citato la società di riscossione milanese. Perché il comune ha subito danni patrimoniali per 100 mila euro. La vicenda è nata dopo la segnalazione della polizia locale al sindaco Pupillo. Oltre mille le sanzioni rimaste nel cassetto. A Teramo litigano per il cane in un bar. Pensionato muore in vacanza. Calogero Sansone, ai 73 anni, aveva chiesto a un ragazzo di utilizzare il guinzaglio. L'ex pensionato dell'ASL è caduto a terra senza vita. Sarebbero volate delle botte. Bimbo annega nella piscina dell'hotel. L'abbiamo visto. Il piccolo, 5 anni, stava facendo il bagno nella zona adulti. Quando è stato visto annaspare e poi andare a fondo. Immediato l'intervento del bagnino. 40 minuti di rianimazione. Il bambino ha rimesso più volte e poi è deceduto. Ora, l'autopsia. Ma canale di scolo aperto. La schiuma in mare a Giulianova ieri mattina. Brutta sorpresa. Sulla spiaggia un ennesimo sfregio. E prima dello sport, ancora una volta ci spostiamo sulla città. Papa Francesco presto in visita in Abruzzo. L'annuncio del governatore Marsiglio. Il pontefice dovrebbe inaugurare il santuario di Tocco da Casauri. Alla cronaca sversano il gasolio di una caldaia direttamente nelle fogne a Ortona. Bimbo di 5 anni annega in piscina. Si è sentito male mentre giocava con altri bambini. Soccorsi immediati. Ma non c'è stato modo di rianimarlo. Ieri i funerali del professor Nino Ciunci. Il 67enne ex professore del liceo Einstein originario di Bellante. Colto da un infarto al mercatino di Tortoreto. Per quanto riguarda la ricostruzione 5 Stelle Teramo esulta per lo sblocco. Dei tecnici che arriveranno in Abruzzo. Saranno 30. Stroncato da un malore litigando per un cane. Calogero Sanzone, 73enne ex dipendente dell'Asli Teramo. Si è accasciato tra i tavoli di un bar a Sciacca. Il motivo dell'alterco sarebbe stato il guinzaglio del cane. Sono 22 gli aspiranti tecnici del sisma. Ampio ventaglio di scelta per il sindaco d'Alberto. Intenzionato a potenziare le pratiche dell'ufficio comunale. Case d'intorni oggi riapre lo sportello sociale in via Sauro 52. E sempre sulla ricostruzione. Colle atterrato, protesta per la ricostruzione. Striscioni e slogan provocatori per l'assenza di lavori nel quartiere popolare. Simbolo del terremoto. Ma andiamo avanti veloce. Nel caso di violenza in famiglia. Marito violento allontanato da casa. L'uomo di Martinsicuro dovrà stare almeno ad un chilometro dalla moglie. Così è stato disposto dai giudici. Mentre la Lega Abruzzo punta sul gruppo di Tortoreto. Pianificata l'organizzazione sul territorio con il consigliere comunale Nico Carusi. Non avere giovanotti non è un male. Grimi contento del concerto a Montesilvano. Sono costi alti per la collettività. Secondo divieto di bagnazioni a Silvio. Ordinanza per la zona di fronte via Colombo. Il sindaco Scordella convoca i vertici dell'ACA. Mentre non si capisce ancora la causa dell'inquinamento in mare. Ma torniamo sullo sport. Nell'ordine consueto. Andiamo sul centro. Andiamo a vedere subito lo sport che riguarda la nostra regione. Pescara, Drudi si fa. E ritorna anche Macin. Macin in arrivo il difensore della cittadella. Il guineano lascia Parma. Vediamo qui la scheda dedicata al mercato dei biancazzurri. Ma vediamo anche Di Grazia ispira il posto di Brunori contro il Pordenone da valutare l'impiego del difensore Bettella. Dubbi in attacco. Ma vediamo anche la primavera. Amichevole il 7 settembre in cui sfiderà la Roma a Trigoria. L'Ital Rugby Test Match contro la Francia stasera a Parigi. E anche il basket. La pallacanestro di Serie C. Il pescara basket ingaggia Capitanelli. Teramo Mangraviti trattativa assaltata. Dall'Olbia arriva Iotti. Il Brescia a Temporeggia sul difensore. E il diavolo ingaggia il 23enne Scuola Milano. Da risolvere il caso Speranza. Vastese Chieti. Vediamo il trasferta vietata ancora una volta ai tifosi teatini. Dilettanti Marianeschi e Lasciapineto. Il Calsel Nuovo Lanciano su Miciche. Deve parlare con noi. Mentre oggi ad Atri scopriremo i calendari di eccellenza e promozione. Il basket. D'Arcangeli carica Roseto. Ora fammi vedere chi sei. Sharks stasera in campo a Cervia. L'amichevole contro la Fortitudo. Bologna. L'allenatore Biancazzurro scommette sui suoi. Stiamo lavorando bene. Mentre il calcio a cinque. Acqua e sapone dilaga con la free time. Domani test a fermo. Sempre sulla paracanestro. Andiamo a Teramo. Campagna abbonamenti al Via. A caso Palas Capriano. I biancorossi. Torneranno a utilizzare il Palasport ma anche gli europei di pattinaggio. Cinque medaglie per la pescarese Varani. Andiamo sul messaggero. Pescara, Bocik e Ingelsson. Ok il serbo e lo svedese. Indirittura di arrivo. Masciangelo e Colì al lavoro con la squadra. Prosegue il pressing sul Milan per avere il centrale. Gabbia. L'alternativa resta Drudi. Memushai col Pordenone e la festa per i 150 Caps. Per quanto riguarda la palla nuoto. Manprin, ecco il mago dei muscoli. Velocità, montagna, supergrammezzi per quanto riguarda i motori. Teramo, ecco Iotti, salta mangravity. Temporeggiamento del mister Corini. Corini ha fatto sfumare il trasferimento del difensore dal Brescia. L'ex Olbia a Mancino di 24 anni invece firma un biennale. Vastese verso il derby. Chieti senza supporter. Le autorità nessuna vendita di biglietti per i tifosi neroverdi. Ma anche Avezzano col Campobasso. Subito l'esame di maturità in Serie D. E proseguiamo con la città. Il quotidiano della provincia di Teramo. Che ovviamente apre con il diavolo. Corini si tiene a mangravity. Arriva Iotti. Il tecnico del Brescia trattiene il centrale destinato al Teramo. Che prende il difensore dell'Olbia. Ma non solo calcio. Futura Volley. Mattucci è il club manager. E per quanto riguarda il pattinaggio. Varani, Calaltris. Oro anche nella Mille. E la reina della pista. La giovane atleta della Bosica di Martinsicuro. Firma un'altra straordinaria impresa. Dopo aver vinto altre due battaglie. E il Vescovo indossa la maglia numero 10. Il Monsignor Lorenzo Leuzzi. Ha ricevuto il presidente. I giocatori e lo staff del Teramo Calcio. Quindi adesso la squadra. Ora che è benedetta. Si attendono faville in campionato. Direi che con questa notizia può concludersi qui la rassegna stampa di questo venerdì 30 agosto. Vi ricordo che l'informazione del TV6 torna alle ore 14 con il TG6. Io vi ringrazio per averci seguito. Buona giornata. Buona giornata.